Bella, Gigi e Kendall, le modelle pronte alla Milano Fashion Week Inizia oggi l'attesissima Milano Fashion Week 2017, evento ricercato non solo per le iniziative che caratterizzeranno la città in questi giorni, ma anche per l'arrivo delle modelle più famose del mondo. Bella, Gigi, Kendall, Ailey, sono loro le giovani modelle più attese alla Milano Fashion Week 2017. Non solo per il loro talento e l'allure particolare di cui si ricoprono quando sfilano sulla cutback, ma anche per il loro essere influencer, socialite, e idole dei tenager di tutto il mondo. Insomma, a Milano sbarcheranno non solo i grandi stilisti e i vecchi professionisti della moda, ma anche questo mix interessante di modelle di vecchia e nuova generazione che promette di creare un gran trambusto nel capoluogo lombardo, ovviamente a livello positivo. Già le Fashion Week di New York e Londra hanno fatto parlare di sé per diversi motivi, non esclusivamente legati agli outfit degli stilisti indossati sulle passerelle. E sì, perché una delle loro caratteristiche è che sono seguite dappertutto, e ogni cosa che fanno diventa oggetto di discussione e approfondimento, proprio come fossero delle attrici del cinema. Per questo quando Bella di da New York ha difeso una fotografa dalle spinte troppo aggressive di un suo agente di sicurezza se ne parlato per giorni, e quando Gigi ha avuto un piccolo incidente sulla cutback, le sue foto mentre era sostenuta in passerella da Bella sono state sulle prime pagine di tutti i magazzini. Cosa ci si deve aspettare adesso, alla Milano Fashion Week? Staremo a vedere. Già dirette in Italia? È cosa nota e risaputa che quando Bella e Gigi Hadid, Kendall Jenner e la loro inseparabile amica ai lei Baldwin vanno da qualche parte, smuovono le masse. Quello che ci si aspetta quindi, con il loro arrivo alla Milano Fashion Week, è che la città si riempia di giovani pronti a fare di tutto per vedere le loro beniamine e magari riuscire anche ad avere una foto ricordo con loro. Ma saranno già arrivate a Milano le modelle più attese del momento? Ieri sera Bella Hadid ha pubblicato una foto abbastanza emblematica sul suo account Instagram ufficiale, lei davanti a un aereo privato, pronta a partire. Accanto allo scatto, la didascalia vomane vino, cosa che porta a pensare fosse diretta proprio verso il bel paese. La preparazione per la Fashion Week. Ma come si preparano le modelle alla Milano Fashion Week? È facile pensare che si sottopongano a diete massacranti e allenamenti intensivi. In realtà la prima cosa che Bella, Gigi e Kendall devono fare è riposarsi abbastanza, così da poter affrontare una catwalk senza subire troppo l'effetto del gelato. Soprattutto Bella Hadid, che soffre della malattia di Lime, deve dormire molto prima di poter tornare a lavorare, e questo soprattutto nel periodo delle settimane della moda che, come tutti sanno, si svolgono una dopo l'altra in diversi stati del mondo e dell'Europa. Ci sono poi gli esercizi mattutini adorati soprattutto da Kendall Jenner ai quali le modelle dedicano subito qualche minuto a inizio giornata, e la preparazione psicologica per l'assalto dei fotografi. Ciao!